Bella raga io sono Spatti, oggi altre esplorazioni in un posto super super figo in cui dovrebbe esserci tantissima roba, un casino di oggetti Adesso andiamo a trovare il bro che ci porterà al luogo e basta, ci troveremo direttamente sul posto, bella raga Mica tanto, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Permesso Andiamo in pace Permesso Di qua c'è un botto di roba Guarda quanto roba c'è lì Madonna Mi hanno tirato via tutto per rubare Cosa che non penso che c'è un giro quasi in scarso e non ti hanno comprobato Basta orologio Ma davvero? Come di plastica, che merda Guarda le foto zio Dove? Ci sono delle foto Non ci credo, è figato Aspetta che qua c'è un'altra scadenza Vai Alta Claudia 2020 Quindi credo che è stata banata almeno al 2018 circa Probabile Poi è pieno Sì, è davvero pieno Questa non l'ho aspettato Ci sembra il chiave Guarda E' la chiave di un motorino Sì Accendini, poi non so che accendine Qua c'è un... dell'olio Probabilmente Non so Forse c'è abitato qualcuno qua No, secondo me no E' la roba che è rimasta qua, come sempre Ma la gente arriva Qua è un vecchio registratore Dove? Una radio Sì Questa qua Dove andare di qua? Vai No, ragazzi Zio, qua è tutto messo qua, cioè Mamma mia Mi ha rubato tutto Però guarda, è rimasto il caffettiero Tutti i bicchieri Cazzo c'è qua Guarda, tutti i bicchieri Sì, assurdo Ma guarda, è rimasto il cibo Riesce a far... Guarda, sto coltello Guarda Permesso Aspetta Guarda Questa è un po' di cassetti Mamma mia Qua non è stato come un magazziero Ma che cazzo c'era qua dentro È rimasto il sapone Mamma mia C'è tutto qua C'è tutto Ho avvisato per forza qualcuno Dici? Sì Andiamo a prendere di sopra Guarda, qua quanta roba Quanti documenti Sì, tutto marge Sì, abbastanza Padelle Guarda, questa è la medicina Sì, là sopra Mamma mia Degli occhiali No Cosa? Sicurette Che lingue C'hanno sopra? Sono piene, zio Oh, zio Con tutte sigarette Come dire che qualcuno le tiene? No, non pensa Sì, zio Ah, sono scatolette di metallo No, comunque sono vuote Ok, allora posto Vai, prendi coraggio Ti tengo viso a casa Sono in metallo, non scherzare Ma va, sì decisamente c'ha abitato qualcuno Ma c'è ancora quanto piano Permesso Vai, zio Minchia, quanta roba Sì, da sicuro c'ha abitato qualcuno Così sembra Con tutto sto peso Il nostro nonna Non è io No Ma se facciamo veloce Ci si deve fare Questo è tanto roba Quali sono imballato? Non è un buon segno Qua ce l'ha dormito qualcuno Sì, sicuro Ah, è molto bello Secondo me Adesso C'è ancora una tastiera Vecchia, vecchia roba No Un cuscino No, guarda Cosa? I dischi Minchia Non tutti i dischi No, che storia Andiamo su Stamare Aspetta un po' Questo è un DVI Lì ci sono delle foto, zio Una carta d'identità, vecchio Ci sono foto? Vecchio, una carta d'identità Va bene, i dischi Una carta d'identità Ah sì, è vero Una fotocopia Riesce a prenderla? E qua lo vieni per rilassarsi Ma dozzia, poche roba Qua c'è? Eh, tutte roba vecchie però Digitale Qua c'è anche una sigaretta Permesso Ok Proviamo a vedere gli altri staboli Dai Zio, una macchina Andiamo Veloce, va veloce Qua è tutto murato Qua è tutto murato Pian di rocchi di metallo Sì Lo usiamo con il magazzino Tre auto Tre Quattro auto Minchia Bisogna venire con una faccia qua, zio Cosa? Bisogna venire con una faccia Sì, queste cose sono le robe da lavoro Possiamo andare a vedere le auto? Andiamo veloce Vai Bella vita Guarda che cosa c'è Guarda che cosa c'è Guarda che cosa c'è Questa è stata Oh guarda Ci sono ancora I piattini attaccati qua Ma non sono piattini attaccati Come? Sono dei tubi Ma cazzo sì Ma perché abbiamo tutti questi stintori? Ti ho scritto qua adesso Perché abbiamo tutti questi stintori? No, sono quelli Tu quando In un'azienda finisci l'estintore Devi cambiare ogni tot E quindi li devi dismettere Devi pagare per dismetterli E quindi li hanno abbandonati lì apposta Sì Tipo di scarica Merda Lavoro in corso, vedi? C'è una macchina da cucina Queste palline Sì, le palline Che cazzo ci fanno qua? Oh C'è la cucina Inche questi quadri Inque tanti Questi quadri sono veramente tanti Questo siccome l'ha messo apposta Per controllare se qualcuno entra Sì Orco due Perché c'è il polistirolo? No, ma non ho tutti elettroniche Chi ho Vieni, vieni Questa è l'entrata principale Dividi Vediamo se c'è un dinamico o qualcosa È un riaio Guarda che roba Proprio Un calendario Ma tutto marzo Faccio A toccarlo Potrebbe Farmi Coscotto Perché come cazzo scriveva Potrebbe farmi uno sconto Poi arabo Quindi parlavo anche arabo Esatto Nel 1994 Mi Tetti Ma È vero C'è scritto tette È ancora arabo Tra l'altro Magari stavo imparando arabo Perché guarda Riesce a farmi uno sconto E infatti è una cosa che si dice Nei paesi arabi Dice? Sì Perché loro lo contratta da un sacco Poi viene anche qua a tette E c'è scritto in arabo Poco al fianco Anche qua guarda Che significato Non sono Automatizzato Autorizzato a fare sconti E poi c'è scritto in arabo Non sono Utilizzato a fare sconti Qui stavo imparando Guarda Guarda Infatti Che parte Tematica Ma anzi forse per la droga Ma non penso Teo 4 Teo 9 Teo 9 L'altro diario L'altro diario L'altro diario Sì sì Qua cosa c'è? Un forno Sto bene Non è mai stata aperta qua Si vede Non c'è polvere Qua si è scritto in arabo Infatti Sì Non ti ha Guarda The West Company Vedi infatti Perché? Non si vede Sì È sempre un diario Qua Sono le catene per un'auto Eh sì Che cazzo ci fanno le Qui è bagnoto Posso Sì direi Oh una chiave Sì è pieno Qua ci sono delle impronte Sì Sembra la precente No direi di no Vai C'è qualcuno? Zio Vibra tutto il pavimento Va così Lo facciamo piano Con calma Con calma Zio guarda Vedi che c'è tanto peso Eh non so proprio per quello No vuol dire che regge Vai tranquillo Ma tutti i giochi ci sono Sì qua è pieno di roba Mamma mia C'è un'umidità qua dentro Con la bandiera Vieni qua a farmi luce C'è una scarpa Guarda qua quante scarpe Zio non ho mai visto Tanta roba in vita mia Guarda quante scarpe qua Pieno Da uomo Da donna Spesso il ricetto Sportivi Eleganti Scarponi Tu metti i piedi Questa roba Adobre la natalizia Assurda Vieni vieni Sì qua c'è un po' di luce Qua ci sono tutti i pini Zio Merda Ma vabbè zio Te lo giuro Torco due Merda No questo sai cos'è Cosa Sono simulatore di guida Ma vabbè I pedali No è per il pianoforte zio Ah sì Lì perché è tutto rotto Ma soprattutto perché Questa è un esploso Tutti i bottigli Questo che vino è Ma guarda quando scade Se riesci Non so esagerare Si capisce Manchia quanta roba Madonna Quello è pieno Cos'è una coperta Dai qua direi che non c'è Nella zona un bel po' Guardali quanta roba Lei è pieno di videocassette Non andare Qua ti dico che non so Se sono passati da la televisione Secondo me sì Da come è messa sì Ma cazzo Tutto così Mi ha messo che è troppo vecchio Infatti è strano capisci Adobbe a natalizio ancora Là c'è un termosifone Ehi Guarda se è triste Che ci sono un sacco di giochi Esatto C'erano dei bambini Poi al mente Porca droga Che roba ragazzi Sto parco Sto parco Sto parco Sto parco Favamo un po' di veloce Vai 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 tu Te la faccio da dietro Che preferisco Mi sono andato Tranquillo Ti ho preso Tre cinturani a tele Porca ma Eh lo so Qua è davvero pieno In realtà è un buon segno Vai vai tranquillo Non ci sono Vado Tutti i giochi ci sono Perché c'è quel sacco lì Perché probabilmente stava venendo giù lì Guarda Guarda il soffitto là Merde Mercissimo Eh sì Buono Qua quando piave ci sono un po' di infiltrazione Vorrei capire Sì quello sicuro Vorrei capire quella bandiera lì cosa sia Guarda questa stanza Però non c'è un cazzo Anche qua Queste erano abbastanza recenti Come Come prese Sì no Ma infatti la bambista È stata bannata Circa 2018 Sì 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 Arrivo Ma che cazzo è sta roba Anche questo è un altro diario Sì che storia c'è dietro Oh Bravo Quella bandiera cos'è? Eh esatto Mostrala Non lo so Favamo avvicinare lui aspetta S L O Cioè Leggo una sigla S L O S L C Sì Eh guarda scusa Prima di andare in mezzo alla strada Guarda là Vedi che c'è qualcosa per gli uccelli Guarda Non c'è un cazzo Sì Guarda cosa c'è Zio il contatore Il contatore c'è ancora il coso Cazzo Occhio che ci sono le vespe C'è un ragno Cazzo No Cosa c'è lì un cazzo Un cazzo Il contatore è acceso zio Allora è acceso ma è disattivato Sì sì quello sì Occhio alle api Sì no Sì quando Ho qua hanno rubato il rame Guarda Dello spilettato Eh sì per forza Quindi è sicuro se ne è passato Andiamo Questa è veramente tanta roba Questa non la trovi da nessuna parte Che merda Occhio quello che ve lo hanno dissi Cosa c'è Cosa c'è Quella col pelo Il bruco col pelo Comunque è pieno di birra Sì Eh la gente magari No qua bereva Sta molto vecchio Sì Easy Oh Sono interessato Chiamate Questo qua Voglio che ci è passata Ma ora tu l'hai stato di no? Sì è una società di Marco È una società immobiliare Allora com'è approvato? Approvato Approvato Mi è piaciuto Let's go Let's go